Prossimo avvio di un'importante iniziativa che però nasce già da lontano, è almeno il secondo o terzo anno che si svolge nel centro e nel cuore stesso della nostra città. E allora, di che cosa si tratta? Intanto è un impegno rivolto agli appassionati di musica, ma non solo. Allora, Montegrappa Live è un'iniziativa che prende forma da tre musicisti locali, che siamo io, Luca Sabatini, Matteo Cozzino e Giordano Tricamo, che abbiamo deciso di creare questo format che dà spazio alle realtà emergenti e fondamentalmente persone che compongono brani originali, musicisti che danno spazio alla creatività piuttosto che ad altro. E quindi nulla, abbiamo creato questa iniziativa che si svolgerà da giovedì 23 per una media di due giovedì al mese, e poi vedremo chiaramente come andrà per quanto riguarda distanziamento e ristringimento delle norme, eccetera. A Via Montegrappa, all'aperto, che prenderà parte della via, a cui parteciperanno vari locali che hanno offerto i loro sponsor alla realizzazione dell'evento. Basta iscrivere a Montegrappa Live, su Instagram o su Facebook o a me, insomma, e ci si prenota e si viene a suonare, o c'è anche una parte che inizialmente è l'open mic, che è una parte dedicata unicamente all'improvvisazione e all'estemporaneità, anche se uno vuole suonare un pezzo, che magari dici una serata, io non ce l'ho, non la posso fare. Quindi fai solo un pezzo, perché hai scritto quello, e scendi, semplicemente. Ogni sera saranno quattro ospiti fissi e iniziamo questo giovedì con quattro artisti locali, tra cantautori, rap, trap e chi più ne ha più ne metta, insomma. Speriamo che venga soprattutto incentivata l'originalità delle composizioni e non... Vabbè, in ambito musicale si chiamano cover, quando uno rifà brani d'altri. Io spero che verrà sempre più incentivata invece la creazione di musica propria e musica inedita. Grazie.